Eeeh... Chin, Chin, lo so, Chin. Stese fortunato, Chiellini si è ritirato, pensa che ora c'è il new Chiellini che si chiama Bastoni, nuovo re della difesa italiana. Intanto, guardate questa maglia quanto è bella, in onore di un giocatore che non c'entra nulla con tutti gli altri che giocano. Dal centrocampo in su si può dire tranquillamente che Belling è un giocatore extraterrestre. Non è normale, non può giocare in un calcio così, diciamo, tra virgolette normale. Nel primo commento vi lascio il sito, il nome del sito, prezzi assurdi, se mettete FB avete ancora un 10% in più di sconto, tessuto fenomenale, tutte le squadre, europee, italiane, mondiali, argentine, di tutte le squadre del mondo, potete anche personalizzarne, vi ricordo con, in più, se aggiungete al carrello nel codice sconto FB, il mio codice sconto, ci sarà il 10%, oltre al prezzo già bassissimo rispetto alle maglie e ai completi che sceglierete. Mi raccomando, andate a vedere il sito. Detto ciò, andiamo alla partita. La partita perché, chi mi seguono sa, la nazionale per me deve andare giù soprattutto per quanto riguarda il presidente, che ancora oggi sul caso fagioli e scommesse dice, ah, manca soltanto che mi danno la responsabilità per il buco nell'ozono. Intanto il buco lo sta facendo al calcio italiano. In più dovrebbe sapere un uomo di 70 anni, che è stato 30 anni sempre nella politica del calcio, quando era Castel di Sangro, dove si è divertito un po' anche con le cose sue, che è presidente della FGC. Tutte le squadre, tutti i tesserati, tutti coloro che fanno parte di quell'associazione, può centrare o meno, piaccia o no, il responsabile solo lui. Ma bastava che facesse soltanto una cosa, all'eliminazione con la Macedonia del Nord, dell'Irlanda del Nord, sempre le metà, nemmeno tutte le nazioni, doveva dimettersi perché non puoi non andare ai mondiali con l'Italia. Detto questo, oggi si salva, secondo me, soltanto Udoge. Fatemi dire una cosa che è deprimente. Io non sopporto come giocatore di calcio, Locatelli fa vedere Cristante in mezzo al campo, è qualcosa di vomitevole, perché poi il rimedio parla dell'espulsione giusta che ci sarebbe stata per Philips, ma non ricorda che Udoge, per esempio, Udoge era già munito e su Fodl fa fallo tattico mentre Udoge e Fodl stavano andando via a centro campo. E questa è la narrazione giornalistica. Sendo? Non mi sentite? Mi sento? Mi sentite in ritardo? Non mi sento più? Rimedio. Quella era espulsione perché era doppio giallo, perché Udoge era già munito. Sarebbe stato doppio giallo ed era prima del fallo di Philips. Questo significa essere giornalisti obiettivi, equilibrati. Invece no. Il tifo contro l'arbitro è un arbitro mediocre, è un arbitro non capace. Giornalisti rai. Detto questo, andiamo a una bellissima squadra. Un giocatore che non è di categoria come questi qua. Cioè, oggi giocava lui, a volte accelerava e non si prendeva. Non è normale questo giocatore. Ragazzi, Bellingham è un giocatore che è fuori dal comune per tutte le qualità che può avere un giocatore. Il numero che fa sul 2-1, premettendo che se ci fosse stato un difensore di vecchio stampo, dove si pensava anche alla marcatura, anziché fare soltanto le sciolinate, forse sarebbe andato in tribuna. Se ci sono difensori conosciuti con caratteristica, la Pujol, la Sergio Ramos, la Chiellini, anche i giocatori temono un po' di più. Invece questo non tema nessuno perché non di fronte a Scalvini, a Cervi, Mastoni, Cristante, Frattesi, Varella che gli arriva al ginocchio, e il Charaoui, Berardi, Scamacca, mi dispiace per Scamacca perché per me è un giocatore importante, ma detto ciò non mi interessa, detto ciò l'Ucraina mi sa che sta vincendo a Malta, perciò è una cosa importante per quanto riguarda, e quelli che fanno i fintitonti, inutile, guardate un po', ultimamente c'è Ital-Inter, non si vince più, non si fa più, cavolo, manca l'Ital-Juve, l'Ital-Mila, diciamo uno scheletro di squadre abituate, un po' a vincere, a stare ad alti livelli, e si fa poca roba. Detto ciò, detto ciò io sono veramente felice, mi dispiace per i ragazzi, ho complimenti ai ragazzi dell'Inghilterra, non mi dispiace per Gravina perché deve andare sempre a fondo l'Italia, e ovviamente lui è il responsabile, poi magari dirà che lui non si ricorda nemmeno di essere presidente della FIGC. Sta facendo qualcosina Ken, ma Ken è un giocatore di una squadra perdente, provinciale, perciò non può giocare a calcio, vediamo un po' se Ken in uno contro due riesce a pure fare qualcosa, sta tirando la maglia. Detto questo, qualità, ritmo, Foden, Bellingham, Ken, Phillips, Rice, Walker, Tripper, questi in difesa sono deboli, siamo arrivati tre volte, il gol è un'altra volta al 47esimo del primo tempo. Detto questo, sono felicissimo, ognuno lo può pensare come vuole ragazzi, la FIGC ha deciso di prendere, intraprendere una politica scontrosa, come un carro armato contro una squadra forte, vediamo che non ci sono più giocatori della Juve e nemmeno la Juve sta comprando, soprattutto quest'anno, giocatori italiani che potrebbero essere forti, la Juve mi sarebbe piaciuto Frattesi per esempio, oggi non ha giocato bene ma non è un problema, ma anzi, sta sempre nel vivo delle azioni, poi gli hanno dato un alito occhi quando si è inserito. Barella lo fanno passare come il nuovo messia del centrocampo, certo, in un campionato mediocre voluto dalla FIGC senza farlo crescere di valore, è normale che i giocatori normali possono sembrare fortissimi quando li vedi nel nostro campionato. Detto questo non è vittimismo, perché stiamo vedendo anche su Fagioli quello che sta succedendo a livello di FIGC, a livello di narrazione, a livello di quello che sta dicendo, perciò la mia nazionale, la mia patria è la Juve, la mia mamma calcistica è la Juve, il mio amore calcistico è la Juve, oggi l'ho vista perché era una parte equilibrata ed ero molto interessata, avevo detto 3 gol, avrebbe vinto 3 a 0 l'Inghilterra, è finita 3 a 1, ho sbagliato di poco il pronostico, ma non c'è proprio paragone, l'Italia è una squadra di terza fascia a livello europeo, giocatori con tutto il rispetto del Sassuolo, Udoge ha giocato benissimo, non si sarebbe servito, comunque è all'estero, infatti l'ha comprato il Tottenham, Bastoni Atalanta, Scalvini Atalanta, Acerbi 90 anni, Scamacca Atalanta, Berardi Sassuolo, il Ciaraui Roma gioca e non gioca, Cristante una volta fa difensore centrale, una volta a mezzare, una volta davanti alla difesa, Fratesi non gioca, c'è soltanto Di Lorenzo e Donnarumma si può dire, è Barella, che giocano sempre fissi titolari, detto questo, brava Inghilterra, abbiamo fatto vedere all'Europa intera che siamo una squadra fortissima, mi dispiace, mi dispiace questo lo dico sul serio, mi dispiace per Spalletti, perché le idee già si vedono che sono le sue, diciamo che Fratesi fa il Zelischi che faceva Napoli, ma ovviamente poi manca la qualità, i Kvar, gli Ozymen, gli Anghissan, la vodka, i Kim e così via. Detto questo, per ricordarvi ancora una volta che le idee ci sono di Spalletti, poi le mettono in pratica chi ha i piedi montati al contrario e non si vince, il contesto aiuta a vincere, i giocatori aiutano a vincere, le idee ti aiutano a far benino, ma seppure non ci metti dentro qualità. Ora questa storia anche di fagioli, tonali, che si toglie un po' di forza, un po' di qualità pure, perché fagioli a livello qualitativo può stare benissimamente in questa nazionale, ma giustamente per colpe sue sarà squalificato, Zaniolo ha aiutato per dare qualche strappo, diciamo che vengono meno dei giocatori che potrebbero essere interessanti per questa nazionale. Detto questo, buonanotte a tutti! Dai Gravina, non ti devi dimettere, devi rimanere fino al 2040. Fino al 2040 ti vogliamo presidente della FIGC. Ciao!